...interpretare suoni e lingue diverse anche senza conoscere una parola. Questo momento viene chiamato apertura celestiale ed è quel periodo in cui ognuno di noi ha più connessioni col mondo di quante ne avrà mai da adulto. Quando questa magia finisce, tutti i nostri pensieri viaggiano su binari prestabiliti, per sempre. Ma le nuove tecnologie ci aiutano a superare questo limite. Pensateci, già oggi ci esprimiamo, comunichiamo e impariamo in modo che mai avremmo immaginato. E chissà cosa potremmo fare domani, qualunque sia il nostro presente, il futuro ci sorprenderà. Quella che vedete è una tipica astronave, con la targa! Alfa Romeo presenta la prima superrottamazione su qualunque veicolo targato. Su tutta la gamma, 2.000 euro di incentivo rottamazione e con finanziamento di superrottamazione, Giulietta e tua, 15.000 euro o tre oneri finanziari. Grazie! Grazie!